Due persone denunciate di una misura cautelare tra il 24 e il 26 dicembre del territorio ebreo per reati di vario genere contro la persona. Gli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato, come ogni anno a Natale, hanno dovuto fare i conti con diverse criticità familiari. Ad essere denunciato un 65enne di vittoria per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni della moglie. Il racconto della vittima ha permesso in questi giorni agli operatori della Polizia di fare luce sul reato che avveniva tra le mure di casa. Il marito, separato di fatto dalla moglie, la continuava a minacciare anche con una pistola per avere rapporti sessuali con lei. La donna, vittima da mesi di queste violenze, ha trovato la forza di denunciare il marito, abbandonandola a casa coniugale. Per reati di maltrattamento in famiglia e stalking è stato denunciato un ragusano di 56 anni. L'uomo, separato dalla moglie, con sentenza già omologata per anni, l'ha maltrattata e nonostante la separazione non lasciava in alcun modo la casa coniugale. La vittima, dopo l'ennesimo tentativo e le violenze fisiche subite, ha deciso di denunciare i fatti alla Polizia, che dopo aver ascoltato i testimoni ha proceduto a denunciare l'uomo. Una misura cautelare di non avvicinamento invece è stata disposta per un ragusano di 39 anni per aver messo in atto una condotta persecutora nei confronti dell'ex fidanzata che voleva interrompere una relazione ormai inaugurata nel tempo da continue violenze e minacce. All'uomo, su richiesta della squadra mobile, è stato notificato dagli agenti una misura cautelare di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. La donna non era libera di andare al bar o in qualsiasi altro luogo di svago con le amiche in quanto veniva costantemente eseguita, controllata e spiata. L'uomo, seguito di questo provvedimento, notificato il giorno di Natale, non potrà avvicinarsi alla donna in alcun modo e se dovesse non rispettare questo provvedimento verrà arrestato. La Polizia di Stato ricorda a tutte le vittime di reato di non aver paura e denunciare fatti così grave di confidare nelle donne gli uomini specializzati in queste tipologie di reato.